Come creare il tuo negozio online partendo da zero senza alcuna competenza. Ciao, benvenuti in un nuovo video. Se non mi conosci è la prima volta che sei arrivato su questo canale YouTube. Ciao, mi chiamo Massimo, sono un imprenditore digitale. In questo canale parliamo di business online, YouTube, tecnologia e crescita personale. Nello specifico oggi ti voglio spiegare che è possibile anche per te che non hai competenze creare uno store di tuoi prodotti, prodotti fisici, prodotti digitali, prodotti in affiliazione, in dropshipping partendo da zero senza competenze. Ovviamente prima di approfondire questo discorso e questo argomento ti invito a iscriverti a questo canale per supportarmi, mettere un bel like, attivare la campanella per le attifiche e magari metti anche un bel commentino così da farmi salire con l'algoritmo YouTube a te non costa nulla ma metti davvero una grossa mano. Ma andiamo subito al fulcro dell'argomento senza perderci in troppe chiacchiere. Allora, aprire un negozio online. Anzitutto analizziamo che cosa serve in primis. Anzitutto ricordati questo. Creare uno store tuo, non appoggiato a terze parti, ma tuo proprio, quindi non sto parlando di Gumroad o altre tipologie di e-commerce, lo puoi fare senza problemi ma devi ovviamente avere alcune competenze. Perché non è che puoi creare uno store, quindi un e-commerce, non è che lo crei così. È un sito web a tutti gli effetti, con dei metodi di pagamento elettronici. Insomma, è tutto un sistema che tu puoi dire, ma cavolo, è impossibile che io riesca a farmelo da solo. Beh no, ti assicuro che è possibile, ovviamente bisogna acquisire delle competenze base. Quindi in questo video ti spiegherò un attimino quali sono i requisiti per chi parte da zero. Quindi se sei già un professionista, non stare neanche a guardare il video. Mi sto orientando verso chi parte da zero. Quindi hai un'attività, vuoi aprirti anche l'e-commerce. Cosa devi fare? Oppure vuoi iniziare un business online partendo da zero, visto che già mi segue, hai questa intenzione, ma non sai come fare? Beh, adesso andiamo a vedere tutti i passaggi. Ovviamente ci saranno anche dei passaggi fiscali che dovrai affrontare col tuo commercialista. Se non hai ancora una partita IVA, o comunque vuoi approfondire il discorso di che cosa devi fare per essere in regola fiscalmente, puoi utilizzare il link che trovi in descrizione nei commenti per il servizio di FiscoZen, il servizio fiscale di FiscoZen, che è un ottimo servizio col quale mi appoggio anche io. Ti lascio il link in descrizione nei commenti, trovi il link per accedere anzitutto alla prima consulenza gratuita e a 50 euro di sconto sul primo canone annuale di abbonamento. Detto questo, allora, aprire una store che cosa significa? Significa acquistare, non necessariamente un dominio a pagamento, perché puoi farlo anche su un dominio gratuito, per esempio mionome.altervista.org, quello è gratuito per dirti, no? Ma se vuoi per esempio mionome.it, o .com, o .net, dovrai acquistarlo. Quello ha un costo annuale, ma un costo veramente irrisorio. Quindi dovrai acquistarti, che cosa? Il nome del dominio, e sul quale puoi avere anche uno spazio web, su cui tirare su il sistema di e-commerce. Quello che consiglio è di tirare su un e-commerce su piattaforma WordPress, dove andare a costruire tutto il sistema, anche i metodi di pagamento, la gestione, anche la gestione dei carrelli abbandonati e quant'altro, e ovviamente dove costruire tutto il sito. Quindi non è che tiri solo su un negozio, tirerei su proprio una vetrina del tuo negozio, su chi sei, cosa fai, perché e quant'altro. Poi, questo se hai già un'attività, è già bene dei chiare. Ma, se ti interessa invece il, come posso dirti, il mondo dell'e-commerce, ma vorresti comunque approfondire questo discorso, ma non è ancora un'attività, anzitutto rivolgiti a FiscalZen per sapere, trovi i link in descrizione nei commenti, per sapere come comportarti, che cosa devi fare, e poi a livello fiscale. E poi quello che ti consiglio, adesso ti faccio vedere, ok, allora, tanto questo lo minimizziamo, allora, mi apro solo lo schermo, scusatemi, allora, cosa sta succedendo qua, ho fatto un pastrocchio, allora, sì, perché sono fuori, ok, eccolo qui, ci siamo, arrivo, ci sono, eccolo qua, così vi voglio condividere il mio schermo, eccoci qua, benissimo, ce l'abbiamo fatta, ok, allora, vi voglio condividere il mio schermo, di modo che possiate vedere, alcune cose, eccoci qua, allora, anzitutto, vi invito a visitare il mio sito, massimopellegrino.net, in quanto, tra i vari servizi che, abbiamo deciso di offrire, abbiamo anche il corso, moneyweb, che è questo qui, ok, qua c'è il dettaglio delle lezioni del nostro corso, ma soprattutto, se ci fate click, cosa potrete vedere, che cosa comprende questo corso nel dettaglio, e a chi è rivolto, perché, con questo corso, che se lo acquistate singolarmente, costa 199 euro, imparate a creare da zero, un sito web, un blog, e un e-commerce, ad alta conversione, quindi, ti insegniamo, è un corso base, non è un corso striper, che diventa il super mago, dei siti web, degli e-commerce, ti permette di creare un e-commerce, partendo da zero, e, acquisiresti anche le competenze, per creare poi, siti web, blog e e-commerce, anche ad altre persone, quindi, imparareste, virgolette, un piccolo mestiere, per iniziare un piccolo mestiere, per fare siti web, alle altre persone, che non guasta, quindi, acquisiresti una competenza, per poter fare delle consulenze, ok, quindi mettiamo già, che già fai delle consulenze particolari, puoi anche offrire questo servizio, poi, che comunque ti permette di guadagnare, un bel po' di soldini, qua c'è l'immagine, dove, spiego un attimino, un po' che cosa, si impara a fare, tra l'altro, in questo corso, insegniamo anche a, fare la vendita, perché, tu mettiamo, vuoi iniziare a fare business online, con un sito web, un e-commerce e quant'altro, non affidarti a quei servizi, che ti dicono, ti diamo l'e-commerce, con due, tre prodotti, virali, che sicuramente vendere, lascia perdere, non spendere questi soldi inutili, quello che ti sto dicendo, è di creare un e-commerce, che ti costa zero, piuttosto che un dominio gratuito, dove ci vai a appoggiare, che cosa, se non hai prodotti, e vuoi iniziare un'attività, partendo da zero, ci vai ad appoggiare, dei prodotti in affiliazione, quindi, che cosa significa, che tu puoi vendere, dei prodotti, che in realtà, non hai tu, ma hanno altri, è una specie di dropshipping, ma, perché dico una specie, perché, non stiamo spedendo dalla merce, quello che ti invito a fare, è un dropshipping, di prodotti digitali, che cosa sono i prodotti digitali, sono tutti quei prodotti, scaricabili o visionabili, in streaming per esempio, che può essere un pdf, un videocorso, un libro e quant'altro, un ebook più che un libro, quindi, lo puoi fare, ovviamente, noi diamo, nel corso spieghiamo, tutto quanto come fare, e ovviamente, tramite, il nostro sito web, diamo la possibilità, se scrolli, trovi la possibilità, appunto, di diventare nostra affiliate, quindi avere dei link, a te dedicati, per poter vendere i prodotti, in affiliazione, questi link, li puoi utilizzare, anche senza avere un sito web, li condividi sui social, su whatsapp, ai tuoi amici, familiari, su un gruppo facebook, dedicato a determinate cose, e quant'altro, tu sai che puoi fare, comunque anche, guadagnati il 10% di provvigione, sulle vendite, dei nostri prodotti, e attenzione, noi non ci appoggiamo direttamente, al nostro e-commerce, ma, se tu farai, iscriviti subito, verrai rimandata, alla pagina di richiesta, di affilazione, di Gumroad, sì, perché abbiamo deciso, di guadagnare meno, ma di appoggiarci alla piattaforma, noi, ma di appoggiarci alla piattaforma, Gumroad, in modo che anche voi, siete tutelati, in qualunque caso, avete una piattaforma, statunitense, che gestisce il tutto, che vi tutelerà, sulla ricezione, di questi, dei pagamenti, ok, delle provvigioni, sulle vostre vendite, ovviamente, il 10% di commissioni, è al netto, dell'IVA, e al netto, delle commissioni, di Gumroad, ok, che si trattiene, già al 10%, infatti, sullo store, ci sono tutti i prodotti, che sono anche visionabili, sul sito, massimopereghino.net, ma, per esempio, c'è il corso, questo qua da zero, imprenditore digitale, la nostra academy, che include, sia il corso MoneyWab, che altri due corsi, di cui uno, per aprire un canale, YouTube di successo, e uno per aprire, per aprire, perdono, per iniziare un business online, con la vendita di libri, su Amazon, e, costa 299 euro, come vedrai, sul, su Gumroad, lo trovi a 245 euro, e 08, perché? Perché è escluso di IVA, perché poi, durante la fase di pagamento, il cliente dovrà, necessariamente, pagare l'IVA, ok, quindi, questo è un po', il metodo di pagamento, stavo provando, accendere la luce, per farmi un po' più di, luminosità, ok, e, quindi, capisci che, vediamo intanto se, continua, molto bene, quindi, capisci che, hai la possibilità, per esempio, 245,08, Gumroad, si tratterà il 10%, 245,08, diviso 100, per 90, diviso 100, per 10, ok, ottieni 22 euro, ogni volta che vendi, uno di questi corsi, quindi, capisci che ne vendi, uno al giorno, oppure due al giorno, ti fai 40 euro, ti sei fatta la giornata, quindi, vuol dire, è da valutare, no? Comunque, se riesci a vendere, senza far niente, perché no? Poi, ovviamente, ci sono delle strategie, per vendere, come fare, a spingere dei prodotti, che sono su un e-commerce, quindi, noi ti insegniamo, a creare un e-commerce, restando un attimino, fissi sull'argomento, partendo da, da zero, ovviamente, non è che imparerai, a fare il web designer, noi ti insegniamo, a creare un sito web, un blog, e un e-commerce, e infatti, nelle, lezioni del nostro corso, Money Web, spieghiamo un attimino, vedi, qua c'è tutto il dettaglio, delle lezioni, dove ti spieghiamo, appunto, che cosa contiene il corso, con inclusa la privacy, la cookie policy, e quant'altro, ricordati, che se vuoi fare attività, di e-commerce, devi per forza, aprirti una partita IVA, quindi, non esiste altra soluzione, cioè, non è che, fino a 5.000 euro, fino a 8.000 euro, no, la partita IVA, ti serve, però, costa un'inezia, in più, se hai un lavoro dipendente, full time, non devi nemmeno versare l'IMS, quindi, di che cosa stiamo parlando? Ti costa poche centinaia di euro, aprirti la partita IVA, se hai a posto fiscalmente, e paghi il 5% di tasse, sul 48% del fatturato, ok? Sull'e-commerce, ok? Invece, sulla gestione della vendita, tramite sponsorizzata o affiliazione, dove tu conduci delle campagne pubblicitarie, per spingere un prodotto di altri, lì paghi il 5%, sul 78% del fatturato, no, su e-commerce non è il 48%, ma è il 40%, mi sembra, quindi, capisci che comunque, paghi veramente un'inezia, un'inezia di tasse, quindi, come è la prissi assolutamente, alla partita IVA, ma, comunque, se vuoi cominciare a testare il discorso, con il link di affiliazione, lo puoi fare tramite il nostro sito web, se vuoi veramente imparare a aprire, un sito web, o un blog, o un e-commerce, o tutte e tre le cose, in un unico sito, lo puoi fare, tramite il nostro corso, tra l'altro, noi nel corso, andiamo a creare questo sito, che è a formazioneonline.altervista.org, dove, andiamo proprio da zero a crearlo, e dove andiamo a, inserire anche dei prodotti, in, in affiliazione, vedi, perché, per esempio, noi qua, e poi lo insegniamo nel corso, nello shop mettiamo il video corso completo, vedi, guarda un po', vedi, ti rimanda direttamente alla pagina di Gumroad, quindi, abbiamo creato un e-commerce, con prodotti in affiliazione, e questo noi ti insegniamo a farlo, nel nostro corso a 199 euro, che, è un'inizia, nel corso ti insegniamo anche a creare un e-commerce, con i tuoi prodotti fisici, quindi sei già un'attività, sei un artigiano, hai un negozio di alimenti, vendi prodotti tipici, vendi quello che vuoi, noi, tipo, con il nostro corso, impari a creare un e-commerce, senza spendere migliaia e migliaia e migliaia di euro, in una web agency, che poi ti crea un sito, che comunque, credimi, o investi in campagne pubblicitarie, o fai un po' di SEO, quindi, search engine optimization, ottimizzazione, prima torre di ricerca, quindi scrivi degli articoli, ottimizi i contenuti dei tuoi prodotti, ottimizi i contenuti da non-page, delle varie pagine, registri il tuo sito, su Google, di modo che, venga indicizzato sia il sito che la sitemap, insomma, ci sono un sacco di procedure da fare, noi nel corso ti spieghiamo tutto, senza che devi stare a spendere migliaia di euro, in web agency, in utility, basta un sito funzionale, leggero, che funziona bene con i tuoi prodotti da vendere, e questo è quanto, ovviamente, non è che lo voglio dire per spingere a comprare più nostri prodotti, però, ti spiego una cosa, tu hai il sito, però come lo promuovi il sito? A parte le campagne pubblicitarie, sicuramente, la cosa ideale, è aprire, come dico sempre, lo parlo per esperienza, perché io uso il canale YouTube per spingere i nostri prodotti, e funziona tantissimo, perché stiamo vendendo, centinaia di corsi e di servizi di consulenza tramite il canale YouTube, senza investire un euro in pubblicità, ti consiglio ovviamente di aprire un canale YouTube, se non sei capace di aprire un canale YouTube, che parti da zero, e non sai come ottimizzarlo, puoi acquistare il nostro corso, Tube Cash, per poter creare un canale YouTube, per far cosa? Per guadagnare poi dalla monetizzazione, quando sarai idoneo, quindi quando YouTube trasmetterà le pubblicità sui tuoi video, e avrai raggiunto i 1.000 iscritti, le 4.000 ore di visualizzazione, verrai pagato da YouTube, per le pubblicità trasmesse sui tuoi video, ma prima di raggiungere questo traguardo, perché non è facile raggiungere, ci può volere anche uno o due anni, cosa succede? Tu puoi già iniziare a guadagnare, come? Spingendo le vendite dei tuoi prodotti, dove ne parli nei video, lasci il link in descrizione, nei commenti, come facciamo esattamente, e noi ti insegniamo questo, noi ti insegniamo a diventare come noi, quindi a proporre i tuoi prodotti, tramite la piattaforma YouTube, in più, te lo dico giusto a titolo informativo, abbiamo anche il corso, dove insegniamo a guadagnare online, con Amazon, ma in che modo? Vendendo libri, quindi col self publishing, tramite la piattaforma Amazon KDP, quindi Amazon Kindle Direct Publishing, dove ti insegniamo, col nostro corso, a scrivere libri con intelligenza artificiale, e a venderli su Amazon, dove ti insegniamo da zero tutto quanto, e ti insegniamo anche a creare le campagne pubblicitarie, è un corso, non per chi è già capace, ma è un corso per chi parte da zero, quindi se vuoi sapere come fare il business, anche su Amazon, vendendo libri e ebook, col nostro corso lo puoi fare, ovviamente il tutto abbiamo deciso, perché i tre corsi li puoi acquistare singolarmente, a 199 euro l'uno, abbiamo deciso di venirvi incontro, a seguito delle vostre richieste, e se volete con 299 euro, comprate tutto il pacchetto, corso per scrivere e vendere libri su Amazon, con l'intelligenza artificiale, corso per aprire un canale YouTube di successo, e creare video con l'intelligenza artificiale, corso per creare sito web, blog e e-commerce, per spingere le vendite dei tuoi prodotti, ok? Tutto assieme è un pacchetto incredibile, formativo, che ti insegna, se stai partendo da zero, a fare business online, in maniera ponderata e corretta, senza troppe pretese, ma ti insegna quello, e con 299 euro, effettivamente impari un mestiere, perché puoi diventare poi un manager di canali YouTube, un manager di Cash Cow Channel, quindi quel canale YouTube dove non ci metti la faccia, anche perché ti insegniamo a creare video con l'intelligenza artificiale, quindi magari invece di un, oltre a un canale YouTube dove ci metti la faccia, ti puoi aprire altri 20 canali, dove avrai ogni canale di una nicchia, farei dei video con l'intelligenza artificiale, e magari, e da ogni canale poi potrai guadagnare dalla monetizzazione, ma puoi fare un botto di soldi, ovviamente ci vuole il suo tempo, in più vendendo libri su Amazon, è una cosa, cioè veramente, in più puoi mettere i link di Amazon, dei tuoi libri sul tuo e-commerce, puoi fare veramente un botto esagerato, e con il nostro corso a 299 euro impari tutto, ma se ti interessa solo il discorso formativo, di acquistare il pacchetto per rifare siti web, blog e e-commerce, allora puoi tranquillamente acquistare il nostro pacchetto moneyweb, ok? Quindi qui ci sono scritte tutte le lezioni, spieghiamo tutto quello che contiene e quant'altro, ovviamente, vista la differenza di prezzi, ti consiglio di acquistare tutti e tre i pacchetti a 299 euro, ti sei tolto veramente un problema, e hai preso un pacchetto davvero, super, iper, professionale, quindi creare un sito web, un blog o un e-commerce, non è che l'hai creato e vendi, devi crearti una community che ti segue, o spendere un sacco di soldi in campagne pubblicitarie, oppure avere una community che ti segue, per esempio su un canale YouTube, sui vari social network, Facebook, Instagram, TikTok e quant'altro, LinkedIn, e in più fare qualche campagnetta pubblicitaria sicuramente, facciamo vedere anche come fare le campagne pubblicitarie su YouTube, per spingere i tuoi video, ci sono un sacco di cose, quindi se tu prendi il pacchetto formativo completo, impari veramente a fare business online, veramente partendo da zero, e te lo dico perché non è che mi sto inventare chissà cosa, quello che io sono molto onesto, cioè questi pacchetti formativi sono per chi sta partendo, veramente da zero, però perché? Perché molti di voi vogliono iniziare qualcosa, vorrebbero lavorare da casa, magari sono in disoccupazione, magari sono fermi, sono senza lavoro, stanno cercando lavoro e non lo trovano, nel frattempo formati, spenditi 199 euro o sti 299 euro, ti formi e impari qualcosa, da poter mettere in pratica, e crearti un nuovo futuro, una nuova attività, che può diventare l'attività principale, quindi mi raccomando, anzitutto vi invito a iscrivervi a questo canale, attivare la campanella per le notifiche, mettere un bel like, e commentate così mi aiutate a servire con l'algoritmo di YouTube, a voi non costa nulla, ma mi date davvero una grossa mano a crescere, quindi a poter dedicarmi sempre di più a questo canale, a portarmi sempre più contenuti, e soprattutto vi invito ad andare a vedere la playlist, corsi completi gratis, dove trovate una montagna di materiale formativo, ma non ore, giornate di corsi sul business online, gratuiti, quel giorno probabilmente ero impazzito, andatevelo a vedere, perché c'è una quantità di materiale formativo incredibile, in descrizione e nei commenti vi lascio tutti i link, per accedere a quello di cui vi ho parlato in questo video, e noi ci vediamo alla prossima puntata, ciao!